eccoci alla parte 2 dei dupe comunque dei profumi dei tesori discontinuati anche se sinceramente nella maggior parte io non so di questi che dupe siano dico la verità comunque questa è la linea marrakesh l'ibisco il pepe rosa che questo pardon questo il patchouli e ginger ambra zafferano nero di cardamomo ecco questi ci sono i biscotti questi sono dei profumini che si sono carini ma per me ce li ho per collezione ma sinceramente non mi piacciono tanto c'è sinceramente questo qua e questo proprio non mi piacciono gli unici due sono questo e questo che secondo me lui ha un piccolo rimando ibisco pepe rosa al poison classico dell 85 a un piccolo rimando e anche ambra e zafferano che se non mi fa impazzire vabbè quindi questi c'è gli ok era questa serie di quattro profumi che erano usciti circa 2013 14 mi sembra però non mi fanno impazzire continuiamo invece con i veri e propri tesori d'oriente quelli classici nella boccetta di latta allora che non fanno più il baobab che un profumo il dupe non lo so forse era un azzaro non mi ricordo più un profumo estremamente maschile qua dicevano per l'uomo in effetti forse non c'era questa cosa di genere cioè che adesso sono unisex forse questo era prettamente proprio maschile effettivamente molto legnoso secco molto buono il legno di guaiaco che non è quello che c'è adesso adesso c'è legno di guaiaco e pepe nero questo è legno di guaiaco con disegnato questo falco aquilotto ed è un profumo che sinceramente mi piaceva adesso non mi piace più comunque non c'entra niente con il nuovo pepe legno di guaiaco e pepe nero per intenderci proprio non c'è azzecca nulla è un altro profumo completamente diverso africa che è esattamente le mal di jean paul gautier insieme alla seconda edizione di ambra indiana si assomigliano molto che ho fatto vedere nel video precedente quindi africa assomiglia molto alle mal di jean paul gautier devo dire che è abbastanza persistente questo è un bello fortino il tè verde che non lo fanno più da una vita ma questo non è il tè verde l'ultimo che avevano fatto il primo tè verde che chiaramente non ha niente a che fare con l'ultimo tè verde maccia questo era un profumo che a me piaceva tantissimo tra l'altro lui l'hanno fatto in tre versioni c'era il tè verde di ceylon il tè verde che è uscito dopo simile a questo però si chiamava solo tè verde se non ricordo male che ce l'ho di là senza di ceylon e il tè verde maccia sono tutti e tre diversi il primo per me rimane il più buono ed è questo ha un sentore quasi un po di chiuso di muffa è strano che di questa cosa però a me piace tantissimo perché mi ricordo è stato uno dei miei primi profumi della mia preadolescenza diciamo questo è un'altra rarità zenzero è un profumo molto 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 vecchio questo qui dolce caldo un po talcato ha un piccolo 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 rimando a shalimar a mio avviso non è il dupe di shalimar però ha un piccolo rimando a quel genere lì mi piace questo sì oh mamma poi abbiamo questo che non fanno più di questo ne hanno fatte tre ben tre edizioni royal hood hanno fatto prima royal hood dello yemen poi hanno cambiato questo hanno chiamato solo royal hood ma uguale a questo e poi hanno fatto royal hood quello nuovo che è quello che si trova adesso comunque tra royal hood dello yemen e royal hood seconda edizione non cambia niente avevano solo tolto dello yemen questo profumo sinceramente non mi piace per niente è troppo dolce troppo mielato è troppo 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 è un dolce nauseabondo per quanto mi riguarda ce l'ho per la questione della collezione ma non mi piace per niente assolutamente non mi piace e proprio per nulla e nulla quindi di questi mi piace moltissimo questo mi piace molto questo perché ha un rimando proprio particolare questo e lui e lui e questi sono gli altri tesori d'oriente diciamo una seconda parte di quel dei sempre meno male sono tutti dupe però non so i dupe appunto di tutti e sono comunque profumi che non fanno più dei tesori d'oriente insieme a quelli del primo video